In un mondo sempre più attento alla sostenibilità, il programma Mission to Zero di ABB per i suoi siti produttivi rappresenta un elemento chiave per gli obiettivi in A-Zero, che come gruppo ci siamo posti, e cioè la riduzione delle emissioni di CO2 di scopo 1 e 2 rispetto ai valori del 2019, dell'80% entro il 2030 e del 100% entro il 2050. Attraverso Mission to Zero ci siamo impegnati, come altre fabbriche ABB prima di noi, a trasformare lo stabilimento di Santa Palomba in un modello di eccellenza per la riduzione delle emissioni, non solo per soddisfare le nostre esigenze, ma anche per ispirare i nostri partner e i nostri clienti in tutto il mondo a seguire la nostra esperienza. Vogliamo dimostrare che con azioni concrete è possibile rendere sia le nuove strutture, sia quelle esistenti, più sostenibili. In questo modo cerchiamo di offrire un modello replicabile per una produzione industriale responsabile e attenta all'ambiente. Santa Palomba è il centro di eccellenza di ABB per la produzione di interruttori differenziali e di misuratori di energia. Qui lavorano oltre 350 persone, abbiamo linee di produzione altamente automatizzate con oltre 30 robot ABB. Realizziamo più di 16 milioni di dispositivi all'anno. Lo stabilimento, che si estende su una superficie di 25 mila metri quadri, di cui 18 mila destinati alla produzione, vantava già delle soluzioni sostenibili e di benessere per i lavoratori, come l'illuminazione naturale fornita da oltre mille cupole trasparenti posizionate sul tetto, con cui risparmiamo sia sui costi dell'energia sia sulle emissioni. In più tutta l'energia elettrica che acquistiamo dal 2019 deriva da fonti rinnovabili. Tuttavia Mission to Zero ci ha spinti a fare di più. In collaborazione con il nostro partner logistico, la Zia Distribuzione, abbiamo implementato un progetto innovativo di Smart Grid per ridurre le emissioni. Oltre 3.000 pannelli fotovoltaici installati sui loro magazzini a fianco al nostro stabilimento forniscono una potenza di un megawatt e mezzo di picco. Questo sistema efficiente di utenza con ABB prevede lo sfruttamento in esclusiva dell'impianto allestito dal nostro partner, che ha un'attività di per sé poco energifero. Da questo impianto ricaviamo il 25% del nostro fabbisogno annuale, riducendo le emissioni di CO2 di oltre 460 tonnellate all'anno. È la stessa quantità assorbita da 4.600 alberi. In aggiunta nel parcheggio sono stati installati altri pannelli fotovoltaici che contribuiscono ad alimentare 17 colonnine per la ricarica elettrica, promuovendo così una mobilità più sostenibile anche per la nostra flotta di auto elettriche e ibride plug-in. Per ottimizzare non solo la produzione, ma anche per un corretto utilizzo dell'energia, ci avvaliamo di un sistema BMS e di ABB Ability. In questo modo, oltre al monitoraggio puntuale dei consumi, possiamo avere un controllo da remoto e parcellizzato di tutte le utenze, a partire da quelle più energivore, come la climatizzazione, la fornitura di terra compressa, le aspirazioni e l'illuminazione, che è già al 100% a LED. Abbiamo anche avviato un programma Zero Waste per ridurre gli sprechi in produzione ed eliminare il versamento dei rifiuti industriali in discarica. Mission to Zero significa anche un impegno costante per il miglioramento. Per questo, entro il 2025 compieremo un altro passo decisivo, quello di sostituire le caldaie con pompe di calore ad alta efficienza, portando a zero la produzione di CO2 del nostro sito, in netto anticipo rispetto a quanto previsto dal programma. Qui a Santa Palomba abbiamo compiuto un notevole passo avanti, verso una completa transizione energetica per la salvaguardia del pianeta. Grazie all'utilizzo di energia rinnovabile e alla riduzione degli sprechi, abbiamo ridotto significativamente le emissioni di CO2, ottenendo il prestigioso riconoscimento Mission to Zero. È un risultato che ci riempie di orgoglio e ci sprona a continuare su questa strada, verso una produzione industriale sempre più responsabile e sostenibile.